In questo video parlerò di alcune principali caratteristiche che servono per fare un buon trading e quindi per guadagnare i suoi mercati con semplicità, con armonia, con tranquillità e con sicurezza. Allora, oggi mi soffermerò principalmente su un trigger, in particolare su poche regole che si possono seguire per fare, ripeto, un trading efficace. Vi parlerò quindi di un trigger che si chiama Inside Fake Out, vi parlerò di alcuni time frame e di come lavorare al meglio per evitare che il mercato, diciamo, tenda a venirci contro in maniera troppo pesante. Poi, per carità, può succedere, ci sono gli stop, ci sono le possibilità appunto di gestire i rischi nel trading e non pensiamo che il trading sia quell'attività troppo rischiosa o più rischiosa di altre attività imprenditoriali, visto che nel trading c'è la possibilità di gestire il rischio, probabilmente forse meglio di qualsiasi altra attività. Ma veniamo al punto. Allora, la prima cosa da fare è quella di non crearsi troppa confusione. Quindi, cosa vuol dire? Vuol dire che una cosa, per esempio, che potreste fare, che si deve fare, a mio avviso, è quella di non avere una lista di mercati da osservare che sia troppo vasta. Se andiamo a vedere troppi mercati, se abbiamo troppe situazioni che, diciamo, possono dirci una certa cosa, rischiamo a volte di fare un po' di confusione, di magari utilizzare una gestione del rischio poco appropriata e quindi di, diciamo, poi non essere efficaci nel nostro trading. Quindi, nel mio caso, la cosa importante da fare è quella di utilizzare, io per esempio, le maggiori coppie di valute, l'oro e qualche indice azionario. In questo modo avrò al massimo una decina di mercati che conosco molto bene. Una lista molto, diciamo, come dire, piccolina, la potremo fare anche qui, insieme. Vado a prendere, eccole qua, le mie liste. Allora, prendiamo e ne facciamo una nuova, insieme, da una nuova lista. Per esempio, price action YouTube, facciamo così questa lista, così la lista qui. Oh, eccolo qua. Vado a prendere, ovviamente, il forex, le maggiori coppie forex, perché per me sono ovviamente importantissime le valute, mercati che, ovviamente, trado di più, sterlina dollaro, metterò dollaro yen. Posso inserire l'Australia, che è sicuramente molto importante come mercato se fate forex. Eh, ricordiamoci poi che il forex è il miglior mercato, a mio avviso, che esista. Quindi, per la price action. Questi cinque mercati, quindi euro dollaro, sterlina dollaro, euro yen, Australia dollaro, euro canada. Poi possiamo andare a inserire il gold, come questo, e poi ci possiamo mettere un indice americano. U.S.500, come si chiama, che è U.S.500. Oh, eccolo qui. Possiamo metterne anche tre, se vogliamo. Mettiamo anche il Nasdaq. Poi ci possiamo mettere la nostra amata Italia, se vogliamo seguire anche un po' l'ambiente italiano. Possiamo fare così. Possiamo metterci anche il DAX, se vogliamo, ma va bene così. Mettiamoci questi nove mercati, e su questi nove mercati noi ci attiveremo. Quindi, vedete, non più di dieci. Quindi ogni settimana, ogni giorno, andremo a lavorare su questo. Seconda cosa, lavoriamo sui trend. Io, come vi ho detto all'inizio, non uso indicatori che siano esterni al prezzo, che ci dicano chissà quali cose. L'unico indicatore che uso da sempre è questa media mobile che vedete sul grafico, che è una media mobile esponenziale a prezzo di chiusura, che conteggia le ultime 21 candele. Questo, per me, è un indicatore termometro di quelle che sono, diciamo, le tendenze, ribassiste o rialzista, in atto. Quindi l'altra cosa da fare è inserire, per quanto mi riguarda, questa media, che mi darà un po' un ordine, diciamo, di quella che è la situazione di tendenza su questo mercato. Terza cosa, sempre semplificando io, sto facendo proprio una semplificazione molto importante di quello che è un po' il mio metodo, ma per farvi capire che le cose semplici spesso poi sono quelle che funzionano, ed è questa. Utilizzerò un time frame. Allora, voi sapete che io nel mio metodo utilizzo il weekly come bussola, come punto di riferimento più grande per capire un po' la dinamica. Il daily spesso è il time frame che mi fa entrare a mercato e, in qualche caso, anche il quattro ore mi permette di fare a volte, di avere delle conferme e quindi di lavorare ancora più di fino in certe occasioni, in certe situazioni. Ma in questo caso, manteniamo le cose semplici, abbiamo detto. Quindi, mercati, abbiamo detto non più di dieci, ne abbiamo messi nove in questa lista nostra. Metteremo questa media mobile, quindi un mercato che ci dice esattamente quando il mercato è al di sotto e sta viaggiando, come in questo caso, con una struttura decrescente, sarà un mercato che vorrò vendere. E quando invece è sopra la media e sta iniziando un movimento long, io questo mercato lo vorrò solamente comprare. E lo guarderò esclusivamente sul grafico daily, in questo caso. Quindi, no weekly, no quattro ore, solo un time frame, il daily. Pochi mercati, praticamente nessun indicatore se non questa media, solo trend e appunto quello che appunto sto dicendo. Quindi, in questo caso, il grafico daily. In questo caso poi, l'altra situazione che io vorrò vedere, sempre per mantenere tutto semplice, sarà un trigger. Non due, non tre, non un trigger. E questo trigger, che adesso andiamo a vedere, sarà l'inside fake out. Cioè, quella tipologia di segnale, di prezzo, di dinamica, di price action, che indica un falso movimento in una direzione e poi recuperato. Io qui ne vedo due, che adesso vi spiego. Uno long e l'altro short. Vi faccio vedere prima quello long. Eccolo qui. Allora, intanto, il daily ci sta mostrando un movimento verso l'alto. Quindi io qui andrò solamente a cercare degli acquisti, quindi delle inside fake out long. E qui, come vediamo, guardate un po', c'è una barra outside, c'è una barra inside, cioè la candelina verde qui è a il massimo e il minimo, che sta all'interno del massimo e del minimo precedente. e quella successiva va a violare il minimo della outside, di quella rossa, e poi c'è il recupero direttamente con una chiusura al di sopra. E quindi, al di sopra di questo minimo, e quindi che va a riprendersi completamente il tutto. Quando è che si convalida questo setup? Si convalida nei giorni successivi, ovviamente non troppi giorni, solitamente nei due, tre giorni successivi deve esserci la convalida, altrimenti non è più valido questo setup o questo trigger, andrò a comprare nel momento in cui il prezzo rompe al rialzo il massimo. Quindi cercherò di comprare sulla rottura del massimo di questa barra. Il mio stop, ovviamente, solitamente non lo vado a inserire subito attaccato a questo minimo, ma lo inserirò sullo swing precedente al minimo che mi dà il trigger. Quindi in questo caso, questa zona. Qui c'è voluto un po' di tempo, però guardate un po', il mercato dell'oro è andato a fare un po' di swing, ha fatto un grande pavimento qui su tutta questa zona, dopodiché il movimento c'è stato ed è stato anche bello repentino. Quindi andrò solo a tradare questo trigger. Nello short il trigger è identico, solo che ovviamente è il contrario. Eccolo qua. Stessa cosa. In questo caso, io tra l'altro ho anche un'operazione in questo momento a mercato, short sull'oro, proprio derivante da questo trigger. Noi abbiamo in questo caso un ritracciamento con tre candele verdi, di cui questa qui del 3 luglio 23, vedete, diventa outside di questa. Cioè questa candela qui, questa giornata qui di martedì 4 luglio, è interna come massimo e minimo alla candela che la precede. La candela successiva va verso l'alto, quindi viola il massimo della madre, di questa barra qui e poi chiude al di sotto questi livelli, addirittura anche in maniera molto short. La mia entry quindi quale sarà? La mia entry sarà al di sotto di questo minimo sell stop. Quindi io ho un ordine che è già stato eseguito, per esempio, e andrò a porre uno stop loss dove? Almeno sopra i massimi dello swing precedente a questo, in questo caso qui. Io in questo caso addirittura mi sono messo proprio sopra tutti i massimi precedenti, a 1.990. Vi posso far vedere anche l'operazione che ho in atto, non c'è nessun problema. Eccola qua. Vedete? Il mercato è lo stesso. Io mi sono posizionato a 1.990 con 530 euro di rischio. Eccolo qua. Questo è il 3. Vedete? Breakout. E poi potevo mettermi anche direttamente qui, ma visto che qui c'è una situazione di massimi importanti, ho preferito proprio mettermi lì. Ritorniamo un attimo sul... Eccolo qua. Sul mercato dove non ho l'ordine, ma è lo stesso mercato, cambia solo il tipo di contratto di CFD. Eccolo qua. Quindi mi trovo di fronte a un tipo di setup di questo tipo. Mi trovo di fronte a un setup che è nella tendenza, è un setup sul grafico daily, ed è uno dei mercati che ho nella mia lista. Quindi io ho una metodologia che è molto semplice, molto minimalista, ma che dice le cose chiare e su cui non ho assolutamente nessun problema nel capire e gestire le cose. Come poi andrò a gestire ovviamente il trade? Beh, in questo caso andrò a ovviamente vedere se ci sono dei livelli, e qui riprendo il mercato su cui ho il trade aperto. Eccolo qua. Quindi se ci sono dei livelli, per esempio qui ci sono due aree su cui io potrei andare a prendere profitto, posso decidere di utilizzare il mio classico Fibonacci sugli swing maggiori in questo caso che troviamo. In questo caso lo swing maggiore sarebbe su un grafico weekly, quindi dovrei andare su un grafico weekly per trovare, vedete, lo swing maggiore e vedere che ci sono due livelli di estensione molto importanti successivi, che sono la zona 1860, ma soprattutto i 1805, 1810 che sono i minimi precedenti, che fanno confluenza con appunto i minimi che hanno portato sui prezzi. Ma senza comunque creare troppa confusione, si può andare tranquillamente su un grafico daily e sul grafico daily andare a trovare quelli che sono i punti, in questo caso per esempio avevamo delle resistenze, abbiamo un gap da chiudere, poi abbiamo l'area di domanda e quindi su daily troviamo gli spunti. Ecco, questo video diciamo che vuole essere un po' un supporto a chi magari fa continuamente un po' di... si crea confusione da solo nel fare trading, quando invece il trading magari deve essere assolutamente un qualcosa di semplice. Quindi siccome se noi abbiamo appunto questi 8, 9, 10 mercati che seguiamo giornalmente e seguiamo un trigger solo, per esempio, e lo facciamo nell'ottica di una tendenza chiara in atto, vedrete che diventa molto più semplice il tutto. Ci saranno ovviamente giornate in cui non ci sarà nulla da fare, ma ci saranno giornate dove arriva il trigger, allora si inserisce il proprio ordine e si poi gestisce il rischio, come vi ho spiegato. In questo modo ci mantiene tutto molto molto chiaro e vi assicuro che la chiarezza e la semplicità nel trading paga. Non per niente uno dei miei detti principali, se mi seguite da anni, ma anche se mi seguite da poco, è il classico buon trading simple, come per dirvi augurarvi un trading semplice senza andare a crearsi chissà quali strategie incasinate che spesso poi funzionano poco e male. Bene, se avete qualche commento volentieri, mi fa molto piacere, scrivetelo pure qui sotto. Io ovviamente adesso ho finito, ma prima di salutarvi devo ricordarvi di mettere un mi piace su questo video se il video vi è piaciuto e vi può supportare nella vostra attività di trading e soprattutto di iscrivervi a questo canale perché molti di voi guardano i video ma non sono ancora iscritti. Quindi iscrivetevi e supportate questo canale che è attivo dal 2010, che dal 2010 fa video sempre inerenti il metodo price action. Grazie a tutti, un saluto e buon trading simple. Grazie a tutti.